La dodicesima gara ufficiale di Serie C Fipaf si risolve in una sonora sconfitta per Promoball Sanitars. La partita finisce 3-0 per le padrone di casa del New Volley Ripalta. La gara di andata contro le ragazze del Ripalta, la prima del campionato, si era risolta con un 3-0 per le Fleresi. Promoball Sanitars scende in campo in questa occasione con Papa Palleggiatore, Giacomini opposto, Marinoni e Turina come attaccanti di posto 4, Basalari e Barossi al centro con Salvetti libero. Il primo attacco vincente è subito delle locali con le ragazze di Flero che non riescono ad essere convincenti in attacco. Il primo punto arriva solo grazie ad un errore in battuta delle avversarie sul 3-1. Dopo un lungo scambio Barossi conquista il punto del 3-2. I troppi errori delle ospiti permettono alle cremasche di allungarsi sul 7-3 e inducono Taramelli a chiamare a sé le sue ragazze. Giacomini sblocca la situazione con un potente attacco in parallela ma non basta perché le locali sono molto più concrete e si portano sul punteggio di 10-4. Turina ci riprova mettendo per terra la palla del 10-5 e con un buon turno in battuta. Il timeout locale sul 10-8 purtroppo la induce all'errore e le ragazze del ripalta tornano a condurre il gioco sul punteggio di 14-9. Con un buon servizio di Papa e con degli schemi funzionanti le Bresciane si fanno sotto fino al 14-13. Le locali allungano nuovamente con un servizio efficace. Sul 19-15 mister Taramelli utilizza il secondo timeout di questo set. Conquistato il punto del 20-16 Giacomini lascia il posto a Di Giulio e Papa lascia il posto a Miljojkovic invertendo la diagonale palleggio opposto. La squadra però non si risolleva soffrendo in ogni fondamentale e chiudendo il primo set sul 25-18. Nel secondo set viene confermata la formazione di fine primo tempo a parte Piantoni che sostituisce Basalari. Il set inizia in parità sul 2-2. Sul 3-4 Taramelli inverte subito la diagonale palleggio opposto con Papa che rileva Miljojkovic e Giacomini per Di Giulio. Continua per poco il minimale vantaggio delle Fleresi con il punteggio di 5-6 con la CR Transport che le raggiunge e le supera. Con due attacchi punto di Marinoni ancora un'ottima turina al servizio le ospiti si fanno sotto sull'11-10. I continui errori in battuta però non permettono alle Tigri di mettere a segno dei break positivi. Le cremasche hanno così il modo di prendere nuovamente lo spazio sul punteggio di 17-14. Con Zanetti al servizio e dopo il doppio cambio la Promoball accorcia le distanze sul 19-17 e poi sul 20-19 ma è ancora la CR Transport a prevalere e conquistare anche il secondo parziale con il punteggio di 25-21 nonostante un brutto infortunio per una ragazza locale sul finale di set. All'inizio del terzo set Taramelli schiera Di Giulio al palleggio con Giacomini opposto, Zanetti e Miliojkovic come laterali, Piantoni e Gannar al centro con Salvetti libero. Brutta partenza per le ospiti che subito commettono errori e sono poco incisive. Le Tigri si fanno sotto con qualche buona azione che fa ben sperare con il punteggio di 9-6 ma questo non basta a contenere le giocate delle locali, più ciniche su tutti i palloni giocati. Sul punteggio di 13-6 Marinoni sostituisce Zanetti ma la ripalta non sbaglia un colpo. Poco dopo sul 15-6 torna in campo Barossi per Piantoni. Con Di Giulio al servizio si accende un barlume di speranza sul punteggio di 15-8 subito spento dalla determinazione della squadra locale che annichilisce le giovani tigri macinando punti su punti. Rientra in campo Zanetti al servizio che restituisce un po' di fiducia alle compagne e induce il coach locale a chiedere un timeout discrezionale sul punteggio di 19-11. Rivelatosi efficace per le sue ragazze che conquistano il servizio immediatamente. Qualche azione convincente sembra riportare in partita la promoball. Taramelli prova a innestare il doppio cambio ma purtroppo le ragazze di crema continuano ad essere maggiormente incisive mettendo la parola fine a questo set e a questa gara sul punteggio di 25-15.